La prova del cuoco 28 novembre Pappardelle di zucca con ragù di spuntature Daniele Persegani ha aperto la puntata dalla 500 alla 1 oggi della prova del cuoco. Antonella Clerici ha iniziato l'appuntamento del martedì con qualche minuto di ritardo rispetto al solito per dare spazio allo speciale TG1 con l'incontro del Papa con le autorità, la società civile e con il corpo diplomatico all'International Convention Centre. La gara degli chef è saltata oggi per dare subito spazio alla ricetta di Daniele Persegani. Il cuoco romagnolo ha realizzato oggi le pappardelle di zucca con ragù di spuntature. Gli ingredienti necessari per realizzare il piatto dello chef emiliano di oggi alla prova del cuoco sono 100 g di purea di zucca, 2 uova, 300 g di farina, 50 g di formaggio grattugiato, olio di semi, 2 carote, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 1.5 kg di costine di maiale, 1 mazzetto aromatico, 500 ml di passata di pomodoro, 50 g di concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino rosso, 1 manciata di parmigiano, 1 noce di burro, sale e pepe quanto basta. La prova del cuoco, Daniele Persegani ricetta pappardelle di zucca Il primo piatto di Daniele Persegani, le pappardelle di zucca con ragù di spuntature, ha aperto la puntata dalla 500 alla 1 oggi, martedì 28 novembre, della prova del cuoco. Per realizzare la pasta alla zucca unire la purea di zucca, la farina, le uova e il formaggio grattugiato. Dopo aver ottenuto un panetto omogeneo, stendere l'impasto, lasciarlo asciugare e tagliare la pasta. Cuocere in acqua calda e salata. Nel frattempo preparare la salsa. In una padella con dell'olio versare la cipolla tritata, le carote tagliate a pezzetti e il sedano. Rosolare poi la carne. Allungare il sughetto per il vino rosso e lasciare evaporare l'alcol. Aggiungere poi la passata di pomodoro, il pomodoro concentrato e il mazzetto aromatico. Continuare la cottura a fuoco basso per tre ore, salare e pepare. Dopodiché tritare con il coltello la carne e rimetterla nel sugo. Scolare le pappardelle e saltarle nella padella con la salsa. Completare il primo piatto con una spolverata di formaggio grattugiato. Per completare il pasto in bellezza è possibile accompagnare il delizioso primo piatto proposto da Daniele Persegani al dolce presentato oggi alla prova del cuoco da Andrea Mainardi la millefoglie al tiramisù. Un dessert delizioso con una crema al mascarpone e una ganache sfiziosa al cioccolato bianco.